Musica Buonasera Mi piace questo che ha falso qui un minuto per la nostra sicurezza, è vero, di questi tempi bisogna guardare anche a questo che è importante. Buonasera e benvenuti a questo importante appuntamento con una finale regionale valida per Miss Italia 82esima edizione dove in realtà però assegneremo ben due titoli. I titoli in palio sono Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia, insomma parliamo di confartigianato, parliamo di Sarti della nostra regione straordinaria e quindi quale titolo migliore di Miss Eleganza che pensate venne assegnato l'anno nel quale partecipò Sofia Loren. Sofia Loren quell'anno era giovanissima però tutti dicevano che era giusto vincesse lei ma non vinse e quindi pensavano di attribuire a lei il titolo di Miss Eleganza e da quella volta questo titolo si porta avanti nel tempo ed ecco per cui è un titolo di quelli davvero molto molto importanti perché è uno dei titoli storici. Insieme a questo andremo a premiare questa sera Miss Rocchetta Bellezza Friuli Venezia Giulia, titolo assegnato da un partner storico di Miss Italia che è l'acqua Rocchetta. Quindi questa sera tra le ragazze che vedremo, le 22 concorrenti che hanno vinto le varie selezioni che si sono tenute quest'anno in regione anche attraverso una nuova idea, un nuovo format su Telefriuli si chiamava Miss in onda. Beh loro hanno vinto le loro selezioni e questa sera due di loro accederanno direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia quindi per loro davvero è un'opportunità importantissima. Io a questo punto andrei subito per presentarvi una sigla dove andremo a vedere tutte le ragazze che faranno una veloce passarella, poi avremo modo di conoscerle da vicino, vederle meglio, abbiamo una giuria, avremo ospiti da intervistare. Al momento però io partirei subito con loro che sono da 82 anni a questa parte le grandi assolute protagoniste dei Miss Italia che sono le nostre bellissime ragazze. A voi! A voi! A voi! A voi! Prima di iniziare però gli ho detto che noi siamo qui grazie agli amici di Confartigianato, io vorrei sul palco il Presidente di Confartigianato Pordenone. Silvano Pascolo un applauso per il Presidente che ci raggiunge sul palco. A lei possiamo cedere questo microfono? Perfetto, perfetto. Cediamo questo microfono al Presidente. Ci teniamo le distanze, ci lanciamo le cose ormai sul palco. Buonasera a lei Presidente. Buonasera e complimenti per questa seduzione e per l'organizzazione di questo concorso di Miss Italia. È da anni ormai che siamo presenti a Cordenonse e quest'anno veramente abbiamo fatto bingo, credo. con l'assegnazione di due premi, una serie prevalidi per la selezione regionale e per l'accesso diretto alle presentazioni di Miss Italia. Quindi qualcosa di molto importante. Vi accompagniamo per quello che riguarda Confartigianato Pordenone e Confartigianato Udine che è qui presente. Graziano Di Latti poi sentiremo anche lui, facciamo un applauso a lui e a tutte le saltorie di Pordenone e di Udine in questo caso e faranno sfinare anche degli abiti fatti veramente da artigiani, abiti artigianali. Chiudo qua rapidamente ringraziando di nuovo l'organizzazione per questa meravigliosa manifestazione che facciamo a Cordenonse. Grazie al Sindaco, grazie all'Assessore Quas che non possono parlare per ragioni di silenzio elettorale ma queste sono le regole e quindi parlo io per loro. Grazie a tutti voi per la presenza stasera e al Comune dell'Organizzazione. Grazie a lei, grazie a lei Presidente. Ci vediamo dopo ovviamente anche ovviamente col Presidente. Ti latti bene, posizioniamo qui il microfono. Allora cosa accade fra qualche istante? Fai, su questo palco... stiamo parlando col microfono, scusate. Diciamo cosa accade fra qualche istante su questo palcoscenico. Abbiamo visto una veloce carrellata di quelle che sono le candidate ai titoli di Miss Eleganza e Miss Locchetta Bellezza Friuli Venezia Giulia. Si presenteranno loro, quindi arriveranno sul palco una ad una. Il primo abito con il quale sfideranno è l'abito scelto da loro. Poi nel corso della serata avremo modo di vederle sfilare abiti dei nostri artigiani, dei nostri sarti, dei nostri maestri artigiani della provincia di Udine e Pordenone. Quindi l'abito, il primo abito è quello loro. Andranno vicino al microfono, si presenteranno, utilizzeranno la mascherina per presentarsi, poi ovviamente quando sfileranno se la toglieranno. Siamo pronti? Possiamo cominciare con la numero uno che è la più tesa, la più emozionata ovviamente. Vieni concorrente numero uno, è lei. Io non dico nulla, si presentano loro, non anticipo nulla, fanno tutto loro. Buonasera a tutti, mi chiamo Beatrice, ho 22 anni e studio chimica e tecnologie farmaceutiche e sono allenatrice di pattinaggio a velocità. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, sono Michela, ho 21 anni, vivo a Maiano e nella vita lavoro in uno studio di amministrazioni condominiali. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Siamo con la prossima! Se non erro dovrebbe essere il numero 3! Buonasera a tutti, mi chiamo Alice Baza, 18 anni e vengo da Trieste. Nella vita frequento liceo linguistico e studio canto. Grazie a tutti! Siamo prontissima anche la concorrente numero 4! Buonasera a tutti, mi chiamo Mario, ho 22 anni, vengo da Tavagnacqua e nella vita faccio la pasticcera. Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Andiamo a conoscere la concorrente conoscenza! Buonasera a tutti! Mi chiamo Manuela, ho 24 anni, vengo da San Daniele del Friuli e nella vita sono istruttore tecnico in Comuna Cividale. Mi invitano a farlo tutte le serate, lo faccio volentieri. Buonasera a tutti! Tenete la mascherina, mi raccomando, indossate la mascherina, mantenete le distanze, vi prego! Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Numero 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 6 è lei! Buonasera a tutti, mi chiamo Maddalena, ho 20 anni, vengo da Trieste e nella vita frequento il corso di Architectural Design al Politecnico di Milano. Buonasera a tutti! Numero 7! Buonasera a tutti, sono Beatrice, ho 20 anni e vengo da Trieste, frequento il secondo anno di comunicazione interlinguistica applicata. Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Grazie a tutti. 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 Buonasera, mi chiamo Sania, ho 21 anni, vengo da Vasovizza, un paese in provincia di Trieste, nella vita studio giurisprudenza, collaboro con il giornale sloveno di Trieste e alleno ginastica ritmica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lascia spazio alla sua amica. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Grazie 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 a tutti. Andiamo a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 su. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti. 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 . tutti. tutti. . tutti. . a tutti. 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 . 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 .. . 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 Giulia. Prefinalista nazionale di Miss Italia 2021. 82esima edizione. Sofia leggermente emozionata. Ma va bene così. Stai pure qui. Stai pure qui. Abbiamo con noi Silvano Pasco. Lo dico bene. Con fascia di Miss Eleganza Triuli Venezia Giulia. Aspetta che controllo eh. Poi si sa mai. Si. Certo. Cintano Pascolo. Ecco. Ne arriva con la fascia. Arriva con la fascia di Miss Eleganza Triuli Venezia Giulia. Arriva Paola Rizzotti con la Corona. Abbiamo le due Miss. La nostra Jennifer Pavesi Miss Triuli Venezia Giulia 2019. e Marta Gorsanutto Miss Triuli Venezia Giulia 2020. Venite. Venite. Venite qui. Venite qui. Approfittate adesso che poi cedete il titolo. Ecco. Andate. Andate là in mezzo. Guarda. Ecco. Allora. Distanziatevi un attimo. Distanziatevi. Ecco qui. Vecchia che ha il telefonino dietro eh. Cosa stai? Registrando il momento. Lei sta registrando da qui il momento della premiazione. E lei stava girando così per prendere la scena della ragazza che vince. Vince il titolo. Tanto Miss Rocchetta l'abbiamo sistemata. E Sofia. Ricordo che alla finale di Miss Triuli Venezia Giulia avremo altri due ragazze prefinaliste. Assegneremo il titolo di Miss Triuli Venezia Giulia e Miss Cinema Triuli Venezia Giulia. Quindi non tutto è perduto ovviamente per coloro che questa sera non vinceranno. Avranno la possibilità di rifarsi sabato prossimo. Ma tant'è che la Miss Eleganza Triuli Venezia Giulia è la concorrente numero... Undici Sadia Zagar di Basovizza. Lei! Sanya? È tutta tua. un applauso però lo facciamo a Beatrice, Michela, Alice, Maria, Manuela, Maddalena, Beatrice, Caterina, Capri, Giovanna, Sani, Elisa, Giulia e poi ancora Alessia, Roxana, Valentina, Ilaria, Angelica, Miley, Chiara, Sofia e Beatrice che sono state le grandi protagoniste di questa serata poi ovviamente ringraziamo gli amici di Confartigianato Bordenone, Confartigianato Udine, Cata ovviamente abbiamo qui Tilatti e Pascolo, io vorrei che Pascolo facesse un saluto di chiusura abbiamo Roger DJ che lo ringraziamo, Erika B, Erika B, vieni pure sul palco anche tu per un saluto alla nostra bravissima cantante, un applauso anche per Erika che ci ha fatto compagnia con le sue note non è ancora mezzanotte quindi auguri ancora e quindi lascio il microfono prego, non so se volete passarlo tra voi, Silvano parla a lei un saluto lo faccia lei, venga al centro del palco bene, emozionante, è stato veramente difficile Garziano difficile questa sera dare ai voti tutti i cinque forse non si poteva ma è stato difficile abbassare qualche voto probabilmente in maniera non meritata è una finale regionale qualcuno deve vincere è una finale regionale e avrei dato tanti sei addirittura qualche sei se fosse possibile ma magari mi squalificavano e soprattutto tanti voti bellissimi le nostre sante i nostri santi che hanno fatto veramente i capolavori come sempre sanno fare grazie anche all'amico Graziano che ha contribuito a questa serata complimenti a tutte le concorrenti una più bella dell'altra come ho detto prima questa sera la bellezza e l'eleganza c'è stato proprio su questo palco tutte meritevoli di questo a Michele e a Paola complimenti ancora grazie e siete stati splendidi nell'organizzazione e vi dico veramente un sincero grazie e speriamo grazie al comune di Cordenons se Elio ci conferma magari per il prossimo anno non vedremo di migliorarci sempre perché questo è l'obiettivo Graziano approfitto per salutare per dire grazie a tutti voi bellezza, gioventù sentimento e passione e così alle ragazze un augurio che vanno a Udine quindi che possano rifarsi e da loro abbiamo avuto un messaggio andiamo avanti è vero complimenti a tutti buonasera grazie grazie davvero a voi facciamo rientrare le ragazze ragazze potete rientrare in camerino voi qua dovete stare invece perché avete voluto vincere e adesso state qua un applauso per Sania e Sofia si aggiungono al gruppo prego andate al centro del palco si aggiungono al gruppo delle pre-finaliste nazionali della nostra regione abbiamo ancora due titoli da assegnare che sono Miss Cinema Friuli Venezia Giulia e Miss Friuli Venezia Giulia tutto questo lo sapremo nella notte di sabato ma intanto voi vi aggiungerete a un altro bellissimo gruppo di ragazze complimenti complimenti davvero è dura perché l'hanno detto i nostri giurati però questa è Miss Italia e ovviamente complimenti a tutte le altre perché io voglio ricordarlo che chi è qui questa sera ha comunque vinto delle selezioni è una fila regionale e quindi merito anche a loro un ringraziamento particolare lo voglio fare anche a tutti i familiari di queste ragazze perché ormai stiamo diventando Miss Italia il bene Miss Italia è che siamo una grande famiglia c'è un po' di sana rivalità tra le ragazze in camerino però vedo che sorridono si fanno l'applauso in camerino non si può più come la volta si passavano i trucchi adesso questo non si può più fare però c'è davvero un bellissimo ambiente quindi grazie alle ragazze credo che se sono ragazze così anche grazie alle loro famiglie quindi davvero grazie anche a voi e complimenti complimenti a tutti grazie a tutti da Michele grazie per essere stati con noi complimenti alle ragazze queste sono ragazze di Miss Italia questa è Miss Italia ciao a tutti e grazie buonanotte buona serata ciao bene amici di Faro Team questa finale regionale questa finale regionale si è ufficialmente conclusa siamo qui con Sania giusto ho detto corretto? giusto correttissimo ogni tanto anche io c'ho quella marcia in più che mi ricorda anche i nomi lei ha vinto il titolo di Miss Eleganza di Friuli Venezia Giulia come sei contentissima immagino perché abbiamo visto che non te l'aspettavi non vedi l'ora di proseguire in questo percorso anche perché sappiamo che la prossima tappa sarà Miss Friuli Venezia Giulia quindi il titolo appunto della tua regione poi ci saranno le prefinali esatto poi ci saranno le prefinali e vedremo come andrà però per adesso sono felicissima con questo traguardo assolutamente ma vuoi farlo comunque Miss Friuli Venezia Giulia anche se hai vinto questo titolo certo voglio farlo comunque assolutamente sì noi anche se vinciamo l'attacco al titolo della nostra regione lo vogliamo giusto? è un titolo importantissimo eh beh assolutamente assolutamente bene tesoro grazie mille per questa breve intervista e ci vediamo alla prossima alla prossima ciao grazie e siamo qui anche con Sofia Levington Miss Rocchetta Bellezza del Friuli Venezia Giulia complimenti grazie mille comunque l'avate 22 giusto stasera corretto? sì molte quindi non è nemmeno stato facile? no per niente bene tesoro parteciperai comunque a Miss Friuli Venezia Giulia? certo certamente l'11 settembre assolutamente tutti presenti tutti presenti sì anche perché comunque ha un titolo che diciamo pesa per una ragazza del Friuli una friuliana perché è il titolo della propria regione e penso che un po' tutte ve lo prenderete con le unghie e con i denti come si scolgire assolutamente ma intanto complimenti perché hai vinto questa spagna da Corona Miluna questa spagna da Fascia che comunque già ti dà la possibilità di accedere alle prefinali quindi diciamo che un traguardo c'è poi se riusciamo a vincere anche Miss Friuli certo magari meglio diciamo che sarebbe meglio prendere anche quello bene amici di Ferro Team io e Miss Rochetta Belletto del Friuli vi salutiamo vi auguriamo una buona notte insieme e ci vediamo la prossima volta ciao ciao ciao